Musica Musica Grazie a tutti. Tanti decenni negando che lo facevano, che non succedeva e che erano solo teorie della cospirazione, ma adesso sembra che abbiano cambiato musica a livello esponenziale. Ad esempio, qui si vede la Luna che è sorta in Colorado, ma ci sono delle scie chimiche così pesanti che a malapena si riesce a vedere con la luce del giorno. Ora, il fatto che il Sole e la Luna si trovano lassù alla stessa ora, anche se la Luna non è ancora piena, questo scempio, questa po' di scienza dove ci dicono che è il Sole che causa le fasi della Luna, che sono create dallo Sole, il quale si trova nella parte opposta della Terra, non ci hanno mai raccontato questa particolare situazione dove il Sole e la Luna si trovano là sopra, esattamente nello stesso momento. Ma io mi dissocio. Ascoltiamo David Cate per un minuto. Il video l'avete già visto? Mi avete visto braccare questo tizio da anni. Poi ho ripubblicato il video in marzo scrivendo Dovete guardare questo video importante. Purtroppo ha avuto solo 117.000 visualizzazioni, ma praticamente ha mostrato che all'improvviso l'Università di Harvard è uscita con una serie di video emozionali con musiche drammatiche e diversi professori che spiegano perché devono errorare l'atmosfera per salvarci tutti dal riscaldamento globale e far rimbalzare i raggi del Sole affinché riscaldino lo spazio. Questo è uscito con poco sfarzo. Le sole persone che sanno questo sono quelle che seguono canali come il mio ed altri che si occupano di questo particolare argomento che è l'argomento più importante del mondo. Tutto quanto il resto sono chiacchiere inutili. Questi signori riempiono l'atmosfera con incredibili, incredibili metalli pesanti che sono nocivi per l'umanità. Pensate che sono solo io a dire questo. Ascoltiamo allora questo signore, quello che parla sempre di riempire il cielo con Megato. Sentiamo le sue parole. Questa decisione, una decisione collettiva da fare nel nostro programma, e magari possiamo dire che nella nostra programmazione si parla di milioni di tonnellate all'anno, per dire possiamo finire con l'uccidere diverse decine di migliaia di persone all'anno come risultato diretto di questa decisione. Ora, non esistono due strade simili. Questo è avvenuto in una forma limitata ad un tavolo ristretto dove ha detto chiaramente la verità. Possiamo finire con l'uccidere diverse decine di migliaia di persone e noi ancora pensiamo che ne valga la pena. Questo significa che lo stanno facendo, non gli interessa quello che stanno facendo. Alla fine sono usciti dicendolo, ma le persone non ascoltano. Gettiamo fuori dalla finestra tutti i problemi di respirazione, quelli che coinvolgono le persone nell'inalare, i metalli pesanti, bario, stronzio, ossido di acido solforico, acido solforico e alluminio. Ma pensate alla conducibilità elettrica. Questi signori usano così tanti, così tanti tipi di radar montati diversi a terra ed altri dispositivi simili all'ARP per elettrizzare l'atmosfera. E tutto ciò gioca un grosso ruolo su questo. Il fatto che queste persone siano state beccate così tante volte con le loro stesse parole... Ho impiegato molto per fare questo video, ma vi sto dicendo esattamente la stessa storia da tempo. Questa è la cosa peggiore che l'umanità affronterà. Stanno bloccando il sole dalla costa est alla costa ovest e ritorno. Ricci d'abbosto, dobbiamo svegliare le persone. O no? Ho finito.